La dinamica è sempre la stessa, un'auto che rimane schiacciata sotto un tiro, è successo ancora in A4, verso le 17 di oggi nel tratto Sanstino di Livenza-Porto-Gruaro in direzione Trieste, morta sul colpo la persona alla guida della macchina, lunghe code e autostrada chiusa. Ancora disordini in viale Leopardi, nel pomeriggio confronto violento tra due gruppi di cittadini stranieri, ferito anche un agente della locale, intervenuto per tentare di sedare la rissa, cinque persone fermate, gli esercenti di Borgo Stazione sono esasperati, serve un segnale forte, dicono. Delibera della giunta Ziberna per far fronte alle bollette fuori controllo, a Luna si spengono le luci esterne di scuole, monumenti e impianti a Gorizia, meno ore per illuminazione pubblica e divieto di stufe elettriche negli uffici comunali, anche a Vianno spegne le luci tra le polemiche dell'opposizione. Il complesso ex Weiss & First di Fusine, dal 2016 in mano alla Chito Chain Italia, sarà riqualificato grazie a un intervento di 4 milioni di euro. Ne arrivano 4 milioni e mezzo dal Ministero della Cultura per l'ex Amideria Chiozza di Ruda. Il recupero di quest'area darà opportunità di sviluppo a tutta la comunità regionale. Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale. L'abbiamo soprannominato ormai il tratto maledetto e purtroppo quel pezzo di A4 a nord-est conferma la sua fama. Un'altra vittima, un'altra macchina finita schiacciata, incastrata sotto il tir nel tardo pomeriggio di oggi. Ancora una vittima a causa di un incidente stradale accaduto poco prima delle 17.30 di oggi lungo l'autostrada A4 all'altezza di Porto Gruaro in direzione Trieste. Dalle prime informazioni sul posto stanno operando ancora la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Un'auto, una berlina della BMW di colore bianco, ha tamponato violentemente un mezzo pesante che stava trasportando tronchi di legname. Entrambi procedevano sulla corsia di marcia dove c'erano già dei rallentamenti. A seguito dello schianto il tratto tra Sanstino di Livenza e Porto Gruaro è stato chiuso in direzione Trieste. Chi proviene da Venezia quindi esce a Sanstino, chiuso anche lo svincolo per chi è diretto a Trieste. Inevitabili le code tra Cessalto e il nord di Porto Gruaro, anche perché un secondo incidente è successo attorno alle ore 18 tra Sanstino e Cessalto in direzione Venezia, quindi nella direzione opposta a quella del primo incidente mortale avvenuto mezz'ora prima. Quella di oggi è l'ennesima vittima lungo il tratto maledetto della A4. Appena qualche giorno fa era stato celebrato a Riccione il funerale delle sette vittime dello schianto avvenuto lo scorso 7 ottobre. Dall'inizio del 2022, lungo questo tratto che attende ancora il completamento della terza corsia, si sono già contati 17 morti. Lasciamo l'autostrada e ci concentriamo ora sulla città di Udine, anche qui per parlare di fatti a cui purtroppo siamo abituati. Stiamo parlando di Borgo Stazione, stiamo parlando di una nuova rissa accaduta nel pomeriggio di oggi, è rimasto anche ferito un agente, ci racconta tutto Francesca Santoro. Buonasera Giorgia, oggi in Viale Leopardi nel pomeriggio l'ennesimo episodio di violenza. Una rissa appare tra due gruppi di stranieri che si sono affrontati nelle vicinanze della stazione delle Corriere. Nel tentativo di sedare la rissa un agente della polizia locale, della pattuglia che è prontamente intervenuta, si è ferito e ha avuto necessità di essere portato in pronto soccorso per essere medicato. Dicevamo l'ennesimo episodio di violenza, negli ultimi giorni ci sono state altre risse, altri episodi alquanto spiacevoli sia nella zona di Borgo Stazione sia in altre zone di Udine. Ne abbiamo parlato per quanto riguarda appunto Viale Leopardi ed intorni con alcuni esercenti. Vediamo cosa ci hanno detto. Purtroppo le cose stanno continuando, bisognerà trovare altre soluzioni. Lo Stato non è vicino alle forze dell'ordine in questo momento in quanto le leggi non sono abbastanza efficaci probabilmente. Non lo so, forse serve potenziare ancora di più le forze dell'ordine probabilmente. Sicuramente un presidio delle forze di polizia su Via Leopardi qualcosa è servito, probabilmente non basta. Le forze dell'ordine stanno girando sempre di più su tutta la zona, quindi non si può dire che non facciano il loro lavoro. Di fatto ci sono delle zone che sono migliorate, come può essere Via Roma a scapito di una Via Leopardi dove un po' tutto si è spostato. però gli stessi balordi che fanno il problema sono gli stessi che terrorizzano un po' tutta urine. Bisogna iniziare a farci delle domande. Serve più giro della polizia, girano un po' più spesso, anzi girano già, però un po' più ancora più spesso. Però alla fine da quello che ho sentito a quello che è successo oggi è sempre lo stesso gruppetto dell'altra volta. Quindi sì, sono facendo il possibile anche i poliziotti, però dopo mezz'ora si fanno rivedere. Non basta quindi la presenza rinforzata delle forze dell'ordine? Se cambiasse un po' anche la legge forse sarebbe meglio. Altro non so cosa dire. Ma è a te che hanno rotto la vetrina? Dopo le patatine. Sempre gli stessi che fanno rissa qua nel quartiere? No, dell'ultima volta, domenica che è successo. Adesso vediamo con l'assicurazione come va, se qualcuno mi paga o no. Diciamo che ci divertiamo perché qua non ci si annoia. La presenza delle forze dell'ordine all'interno di un ufficio che ha degli orari abbastanza flessibili, non lo so se è proprio un deterrente. Questi ragazzi invece sono H24 sul territorio e presidiano loro le vie. Diciamo che Via Roma è sicuramente più presidiata dalle forze dell'ordine, però non è sufficiente. Bisogna intervenire in maniera radicale. Abbiamo invitato più volte anche questore, l'assessore Ciani, fanno quello che possono, ma bisogna veramente operare in maniera definitiva perché noi siamo stufi e abbiamo il diritto di lavorare in pace. Grazie. Queste le parole quindi di alcuni esercenti di Via Leopardi e di Via Roma. Abbiamo parlato anche con l'assessore comunale alla sicurezza Alessandro Ciani che ha convenuto, così come i titolari dei bar dell'attività che abbiamo intervistato, che il problema da risolvere è a Monte, servono delle leggi diverse. Vediamo l'intervista poi lì allo studio. Sì, ovviamente la mia solidarietà alla gente che era lì a fare il suo servizio insieme ad altri colleghi perché insomma la zona è una zona che fortemente cerchiamo di tenere controllata. Nelle ultime settimane però, nonostante questa attività forte che facciamo noi, che fa le forze di polizia dello Stato, continuano ad esserci episodi di questo tipo. Casualmente da alcuni mesi c'è un aumento della rotta migratoria, della rotta balcanica. La situazione è molto preoccupante a Udine ma è ancora più preoccupante in altre zone, penso ad esempio a Trieste in cui si verificano episodi analoghi e quindi siamo molto preoccupati e a gran voce chiediamo che ci sia un cambio di rotta molto forte nelle politiche relative all'immigrazione nel nostro paese perché a livello nazionale purtroppo non si parla mai di questa situazione, si parla sempre di Lampedusa, si parla sempre di altri casi però il caso del fluo di Venezia Giulia deve essere portato all'attenzione del nuovo ministro dell'interno e devono essere prese delle decisioni molto diverse. Nelle ultime settimane fortunatamente anche su nostra pressante richiesta la prefettura di Udine è riuscita a fare dei trasferimenti dalla Cavarzerani in altri luoghi del territorio nazionale, però questo evidentemente non basta perché ci sono degli arrivi e quello che noi ospichiamo è che si torni alla situazione pre-estiva quindi con poche presenze alla Cavarzerani, insomma la città di Udine nel corso del tempo ha dato e adesso è il caso di dire basta. Ancora fatti di cronaca spiacevoli in città come il furto alla pasticceria De Luisa è la notizia che apre le nostre flash news. Hanno agito mentre all'interno del locale stavano facendo il pane, furto al buio nella notte tra lunedì e martedì al panificio pasticceria De Luisa di Viale Palmanova a Udine dove i ladri sono entrati in azione tra le 2 e le 3 di notte. Sono stati rubati circa 200 euro in contanti e le chiavi dell'esercizio commerciale. Da quanto ricostruito dai proprietari i malviventi sono entrati dalla porta sul retro e si sono diretti subito verso il registratore di cassa che è stato resettato. Poi sono fuggiti senza lasciare traccia. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Gli agenti della polizia di stato e della costura di Udine del reparto anticrimine dell'Emilia Romagna con una unità cinofila della polizia locale nel pomeriggio e nella serata di ieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del parco Moretti e in quella dell'autostazione. Nel corso della giornata sono state complessivamente identificate 242 persone, 71 delle quali al parco e controllati poi 62 veicoli, rintracciati anche due clandestini che hanno chiesto protezione internazionale mentre è stata denunciata una cittadina italiana sanzionata per ubriachezza e resistenza pubblico ufficiale. Sempre il personale della questura friulana ha notificato al titolare di un ristorante del centro città, un cittadino afgano, la sospensione dell'attività per 30 giorni. Gli agenti durante i controlli eseguiti nelle serate del 13 e 16 ottobre hanno identificato diversi avventori con precedenti di polizia riscontrando peraltro irregolarità in merito alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Non era stata eseguita per esempio la revisione periodica degli estintori e anche nelle certificazioni sulla formazione dei dipendenti. Al gestore è stato notificato il provvedimento del questore con l'immediata sospensione di somministrazione di alimenti e bevande. Fuga di gas stamattina nella zona nord del capoluogo friulano ai vigili del fuoco sono arrivate parecchie segnalazioni da parte dei residenti preoccupati per il forte odore che si stava diffondendo in un'area piuttosto vasta tra via Friuli, via Susanse e via Chiusaforte. I pompieri sono intervenuti assieme all'AMGA ma non è stato possibile individuare la fonte della fuga. La polizia locale di Monfalcone è emesso dal 1 gennaio 2022 ben 39 d'aspo urbani, ha segnalato alla prefettura 5 assuntori di sostanze stupefacenti e è denunciato per spaccio due persone. Sono state inoltre combinate 423 sanzioni per le biciclette per mancanza di luci, per circolazione contro mano e circolazione sui marciapiedi. 61 invece le sanzioni e i danni dei monopattini elettrici per le medesime motivazioni. Al comando sono arrivate poi 5 mila segnalazioni complessivamente. Il report è stato fornito sulla stagione estiva dalla polizia locale monfalconese. Torniamo ora sul caso una bomber riemerso in questi giorni. Vi facciamo ascoltare le parole di Stefano Rossi criminologo ed ex dirigente Digos di Pordenone che dice progressi tecnologici e un'analisi della DNA potrebbero dare risultati. Analisi più profonde con la strumentazione oggi a disposizione porterebbero nuovi risultati sul caso una bomber ad affermarlo e Stefano Rossi ex dirigente Digos di Pordenone che al tempo seguì le indagini. Servono però elementi forti per sostenere l'accusa in giudizio, ha continuato Rossi, altrimenti resterà un approfondimento senza riaprire le indagini. Primo il caso di Sacile risalente all'agosto del 94 al quale sono seguiti diversi colpi in tutto il Triveneto. Un caso che torna ad attualità e sul quale ora ci si interroga se dietro le varie azioni si nascondano uno o più autori. Tuttavia far propendere l'ipotesi verso una sola mano sarebbe il fil rouge che legga i diversi episodi. Noi arrivamo a ritenere che fosse, tentammo insomma, analizzammo tutte le possibilità però andammo più che altro a ritenere che fosse una alla mano, una alla mano che soprattutto legava una serie di ordigni e rispetto a questi anche grazie ai contributi dati dalla Polizia Scientifica, dagli uffici investigativi dell'Arma dei Carabinieri, vi fosse proprio un'impronta sostanzialmente, un'evoluzione. Ad oggi non abbiamo individuato, non è stato individuato l'autore o, aprendo al massimo il ventaglio dell'ipotesi, gli autori di questa serie di azioni che io definisco sinceramente terroristiche, proprio perché in quel periodo hanno creato veramente panico fra la gente, la gente comune, insomma, con anche momenti di tensione per noi investigatori che correvamo da una parte all'altra cercando di prevenire possibili altri ordini. Però ecco, io credo che la questione, come ha dimostrato questi anni, si sia sostanzialmente fermata e quindi penso più a un'indagine che scavi nel passato e approfondisca quanto c'è già, piuttosto che possa esserci una ripresa da parte di qualche soggetto, insomma, anche dal punto di vista dell'emulazione. Torniamo ora sul caro Bollette che sta mettendo in forte difficoltà i comuni e così la giunta Ziberna, con una delibera, decide di spegnere le luci, soprattutto di notte. Questo e non solo. Andiamo a sentire. Contenere al massimo i consumi energetici per evitare tagli ai servizi a causa di bollette stratosferiche. Questo è l'obiettivo della delibera approvata dalla giunta comunale di Gorizia. Si comincia dalla chiusura notturna, da luna, delle luci esterne di scuole, centro polivalente, Lenassi, mercato coperto, castello e giardini interni del municipio, oltre che dei cortili della protezione civile, di palestra e impianti sportivi. Sarà anticipato di 90 minuti lo spegnimento mattutino della pubblica illuminazione e ne sarà ritardata di 30 l'accensione. Saranno poi disattivate le fontane pubbliche relativi impianti elettrici di illuminazione. Non saranno risparmiate le luminari natalizie, che potranno essere installate solo in quantità limitata, previa intesa con le associazioni di categoria. Negli uffici comunali sarà vietato l'utilizzo di stufe elettriche e di impianti supplementari di fornitura di energia termica. Nelle palestre non si potrà prolungare l'accensione degli impianti, oltre all'orario di utilizzo, nemmeno per garantire l'acqua calda sanitaria. Mentre per gli stabili destinati a finalità culturali, l'accensione sarà attivata solamente su specifica e motivata richiesta. La delibera recepisce inoltre indirizzi e disposizioni di carattere generale, anche per i privati. Il riscaldamento non potrà superare i 17 gradi, negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e i 19 per tutti gli altri stabili, con due gradi di tolleranza. La data di accensione degli impianti di riscaldamento sarà posticipata di 8 giorni, mentre quella di chiusura anticipata di 7. Infine si ridurrà di un'ora la durata giornaliera di accensione del riscaldamento, ovvero 13 ore, dal 22 ottobre al 7 aprile. Provedimenti doverosi, rimarca il sindaco Rodolfo Ziberna, sia per risparmiare al massimo per evitare problemi di bilancio, sia per evitare di dover tagliare servizi soprattutto le persone più deboli. Meglio qualche luminario e meno impianti spenti la notte davanti ai monumenti che dover lesinare un contributo a chi ne ha bisogno. Anche da Viano l'amministrazione comunale decide di spegnere le luci da mezzanotte alle 6 con però qualche perplessità da parte di alcuni cittadini e dell'opposizione. I costi troppo elevati dell'energia e la necessità di risparmiare. Il comune di Aviano, per far fronte agli aumenti delle bollette, ha deciso di spegnere in via sperimentale l'illuminazione pubblica dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Una decisione diventata operativa pochi giorni fa in seguito ad un incontro tecnico con Era Luce e che ha già suscitato alcune polemiche sia tra i consiglieri comunali dell'opposizione sia tra i cittadini. Tra i pareri contrari c'è quello dell'ex vice sindaco e attuale capogruppo di Peraviano tra i banchi dell'opposizione alla giunta Zompit, Danilo Signore, che rivendica gli interventi già attuati dalla precedente amministrazione comunale. L'illuminazione pubblica è fondamentale ai fini della sicurezza stradale e del territorio, spiega Signore. Con l'aumento del costo dell'energia ci sono sicuramente difficoltà di bilancio per il pagamento delle bollette di riscaldamento e luce. Questa criticità è stata affrontata a marzo attivando alcuni provvedimenti, uno stanziamento a bilancio di 400 mila euro in più rispetto agli anni precedenti e la riduzione di due ore degli orari dell'illuminazione stradale, posticipando l'accensione e anticipando lo spegnimento di un'ora. Signore fa notare inoltre che con i contributi statali e regionali si arriverà a 600 mila euro oltre al budget annuale già predisposto. Secondo l'ex vice sindaco la soluzione migliore sarebbe comunque un'altra più soft. Credo si dovrebbe valutare attentamente la possibilità di attivare l'accensione alternata dei lampioni, sottolinea Signore, fermo restando la necessità dell'accensione in tutti i punti di maggior pericolo, quali incroci e piste ciclabili. Forse è un caso, ha concluso Signore, ma nella notte tra sabato e domenica è stato abbattuto un palo dell'illuminazione in via Scussat, sicuramente da un'automobilista. La preoccupazione di molti cittadini avianesi è proprio legata alla sicurezza stradale, specialmente perché si deve muovere in auto nelle strade buie, ma anche al rischio di un aumento dei furti. Facciamo un salto via web in Parlamento, dove oggi i gruppi parlamentari hanno eletto i capigruppo con alcune conferme per la nostra regione. Il senatore Luca Ciliani è stato rieletto capogruppo di Fratelli d'Italia, Palazzo Madama. Poi l'assemblea del gruppo Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, ha eletto per acclamazione Deborah Serracchiani, precedente del gruppo alla Camera, confermandola alla guida del gruppo, come richiesto da Enrico Letta. E ora parliamo del bonus psicologico per gli studenti della nostra regione, istituito per chi? Per i ragazzi di medie e superiori che manifestano situazioni di disagio, di malessere in seguito alla pandemia. Ebbene, le domande che sono arrivate sono oltre 700. Sono 702 le domande finora pervenute per avvalersi del bonus psicologo-studenti FVG, rivolto agli iscritti alle scuole medie e superiori, per aiutarli a fronteggiare situazioni di disagio o di malessere psicofisico manifestate durante e dopo la pandemia. Il bando copre per il 90%, quindi con 225 euro su 250, le spese di 5 colloqui con uno psicologo specialista accreditato, scelto da richiedente, dall'elenco presente sul sito dell'Associazione regionale per il diritto allo studio, l'ARDIS. Complessivamente sono stati istanziati 300.000 euro per un totale di 1.333 bonus. Il 46% delle istanze pervenute proviene dal territorio dell'ex provincia di Udine, i 22 da quello di Trieste, i 19 dal Polvenonese e il 13 da Lisontino. Ne restano quindi altre 631 da poter accogliere con la scadenza fissata al 30 novembre per la presentazione. L'iniziativa proseguirà anche nel 2023, con estensione anche a coloro che seguono percorsi di istruzione e formazione professionale. A rimarcare l'importanza del provvedimento è stata l'assessore regionale all'istruzione, Alessia Rosolen, che ha ricordato come si tratti di uno strumento di accompagnamento legato al diritto allo studio che va ad affiancarsi agli ordinari servizi sanitari e sociali. La regione ha potuto contare sulla collaborazione dell'ufficio scolastico regionale, dell'ARDIS e dell'ordine regionale delle psicologi. Dopo decenni di delocalizzazioni, il Friuli Venezia Giulia torna a diventare una regione capace di attrarre nuove realtà produttive. L'ultima è una storica cooperativa edile dell'Emilia Romagna, la CEA, con un fatturato da 70 milioni di euro che ha inaugurato oggi la nuova sede a Coloredo di Prato. 450 dipendenti, una settantina dei quali lavorano già in Friuli Venezia Giulia. Un fatturato annuo di circa 70 milioni, ma l'obiettivo è raggiungere quota 100. Sono solo alcuni dei numeri che descrivono la cooperativa edile a Pennino. Le sue radici sono nel Bolognese, a Monghidoro, ma da oggi ha una sede ufficiale anche a Coloredo di Prato, il presidente Marco Marchi. Io rappresento la seconda generazione di CEA. CEA ha 40 anni e traguarda già il passaggio dalla terza generazione. Per fare questo abbiamo individuato la sede di Pasean di Prato. Perché? Perché il Friuli Venezia Giulia è una regione molto dinamica, dove al centro mette il bene comune. Il bene comune lo vogliono tutti quanti e riesce a avere anche un dialogo con le istituzioni. E quindi vediamo veramente nel Friuli Venezia Giulia lo sviluppo e il futuro di CEA. CEA lavora tanto anche all'estero con i bacini e le dighe. Molti lavori li facciamo in Austria e Germania. E quindi questa è anche una porta, la vediamo una porta verso l'Europa importantissima per il nostro futuro. CEA opera nel settore edile e nella manutenzione delle reti pubbliche, con filiali anche all'estero, in Romania, Libia e Libano. E' tra i maggiori esperti a livello internazionale nell'impermeabilizzazione di opere idrauliche, come dighe e bacini, con la tecnica del conglomerato bitumoso. In regione ha già eseguito lavori per il risacqua, CAFC, ACEGAS. Se un'azienda che è nata nella terra della cooperazione, qual è l'Emilia Romagna, decide di trasferire la sua sede legale in Friuli Venezia Giulia, vuol dire che la nostra regione sta diventando sempre più attrattiva per nuove imprese. Ha detto l'assessore all'attività produttiva Emilio Bini, presente al taglio del nastro assieme a tanti altri rappresentanti delle istituzioni. Dal presidente del consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ai sindaci di Pazian di Prato e Monghi d'Oro, Andrea Pozzo e Barbara Panzacchi. Altra buona notizia per l'economia nella nostra regione, per quanto riguarda i crediti fiscali collegati ai bonus edilizi rimasti incagliati. Infatti, grazie all'interlocuzione di confartigianato regionale con l'Agenzia delle Entrate, si potranno sbloccare circa 100 milioni di euro a tutto vantaggio di piccole e medie imprese. In Friuli Venezia Giulia si va verso lo sblocco di circa 100 milioni di euro di crediti fiscali collegati a bonus edilizi. Una buona notizia per tante piccole e medie imprese della regione che hanno dato lo sconto in fattura. Sta avendo ricadute positive l'azione condotta a livello nazionale da confartigianato per avere chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate in merito alla gestione di crediti fiscali legati ai bonus edilizi, rimarca il presidente regionale del Sudalizio, Graziano Dilatti. In virtù della circolare esplicativa di questi giorni, circa 71 milioni di crediti per super bonus e 29 per altri bonus edilizi possono cominciare a sbloccarsi. Il provvedimento in questione ha fatto luce sulle modifiche introdotte dal decreto legge aiuti bis riguardo alla solidarietà passiva del cessionario o fornitore che acquisisce crediti di imposta che scatturiscono dei bonus edilizi, fornendo delucidazioni che di fatto possono contribuire anche alla ripartenza del mercato dei crediti fiscali. Prosegue Dilatti. Oltre al chiarimento su dolo e colpa grave, riteniamo particolarmente significativa la precisazione che i cessionari non sono tenuti a effettuare la medesima istruttoria già svolta dalla banca, a condizione che l'Istituto di Credito Occidente consegni al correntista cessionario tutta la documentazione idonea a dimostrare che la stessa ha osservato la necessaria diligenza. È chiarito così che l'accessione dei crediti correntisti libera capacità fiscale in capo alle banche che potranno ritornare a operare sul mercato. Dal Ministero della Cultura altri 4 milioni e mezzo per l'ex ammideria Chiozza di Ruda. Il recupero di quest'area darà ampia opportunità di sviluppo per tutta la comunità regionale. Ha commentato il sindaco Lenarduzzi. Sentiamo. Negli ultimi anni si è trasformata in un set cinematografico. Prima con Volevo fare la Rockstar di Matteo Leotto e poi per Rappiniamo il Duce di Renato De Maria, appena presentato alla Festa del Cinema di Roma e in uscita su Netflix il 26 ottobre. Per l'ex ammideria Chiozza di Perteole di Ruda, siamo in località fredda, ci sono però anche altri progetti per il futuro, grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero della Cultura. E non solo. Il sindaco Franco Lenarduzzi ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo finanziamento dalla soprintendenza di 4 milioni e 500 mila euro per il recupero del patrimonio di archeologia industriale e per la sistemazione di Villa Antonini Belgrado. Ad ora ci sono circa 12 milioni a disposizione. Serviranno a realizzare la parte museale per spiegare l'operatività delle macchine, una delle quali è ancora funzionante, e il processo di produzione dell'amido. Ma l'obiettivo è rilanciare l'intero complesso, mettendolo a disposizione del territorio per ospitare attività di terziario avanzato. Entro l'anno sarà indetta la gara d'appalto per i lavori. La visita del Ministro Dario Franceschini di qualche giorno fa è stata un attestato di grande onore al lavoro e ai programmi svolti dal Comune di Ruda, ha commentato il primo cittadino. Ringrazio davvero il Ministro Franceschini e il supporto che alcuni rappresentanti istituzionali a Roma, in particolare Deborah Serracchiani, hanno saputo darci. Avremo l'opportunità di recuperare un'area importante per l'archeologia industriale, ha concluso Renarduzzi, salvando una struttura di grande valore per la memoria collettiva. L'ex amideria Chiozza, fondata nella seconda metà dell'Ottocento, è rimasta operativa fino a metà degli anni 70 del secolo scorso, quando è iniziata una lenta fase di declino e abbandono. A proposito di vecchi e gloriosi stabilimenti industriali che si rifanno il look, sono stati consegnati a Tarvisio i lavori di messa in sicurezza del complesso ex Weissenfels di Fusine in Val Romana, un intervento da 4 milioni di euro che andrà a beneficio della società Chico Chain Italia SRL. Uno storico compendio industriale della Val Canale che aveva urgente necessità di riqualificazione. L'ex acciaieria Weissenfels a Fusine in Val Romana, dal 2016 in mano alla Chico Chain Italia, è pronta ad essere riammodernata grazie ad un intervento complessivo di circa 4 milioni di euro, di cui 3 messe a disposizione dalla Protezione Civile Regionale e 1 milione stanziato dal municipio di Tarvisio. Tre i lotti che compongono l'intervento nella sua totalità. Ci sarà la ristrutturazione e il collegamento dei fabbricati, una nuova individuazione degli uffici, il consolidamento strutturale. Le opere, così come realizzate, hanno evitato ulteriore consumo del suolo in una zona di particolare attrattività turistica e di necessaria tutela ambientale, escludendo l'iniziale e paventata necessità di edificare un nuovo corpo di fabbrica. Un intervento, questo, fondamentale per permettere alle maestranze, un centinaio, di lavorare in piena sicurezza e per il gruppo di poter compiere ulteriori investimenti, come ha spiegato il vice governatore Riccardo Riccardi, intervenuto alla consegna dei lavori assieme al sindaco Tarvisiano Zanette e ai manager dell'azienda. Partiranno questi lavori per mettere in sicurezza questo compendio, questa fabbrica importante, anche simbolicamente importante. L'intervento della Regione insieme con il Comune vale 4 milioni di euro ed è un investimento a beneficio di posti di lavoro, posti di lavoro che valgono ancora di più se consideriamo che siamo in montagna, quindi uno sforzo importante di messa in sicurezza che sicuramente ci rende orgogliosi per questo risultato e quindi siamo qui a salutare questo avvio dei lavori, salutando le maestranze, augurando certezza di una prospettiva professionale e buon lavoro. Prima di salutarci vi ricordo gli appuntamenti in prima serata di Udinese TV con le 21.15 in Comune e il Poma che vi porterà a Forni di Sopra e poi a seguire alle 21.45 l'appuntamento con il basket a cura di Massimo Campazzo. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona serata. Amici di Udinese TV, ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo situazione per la giornata di mercoledì quando l'anticiclone interesserà tutto il friulio di Venezia Giulia cieli sereni o poco involosi, ampie aperture del cielo e assenza di pioggia per un po' di giorni non ci saranno perturbazioni. Nel dettaglio Udine e Pordenone, anche qui sole protagonista con temperature fino a 25 gradi caldo anomalo fuori stagione per l'alta pressione africana. Per quanto riguarda Gorizia e Trieste una bella giornata di sole, venti deboli, mali calmi o poco mossi ancora massime fino a 25 gradi a Gorizia. Diamo uno sguardo invece alla giornata di giovedì che si presenterà praticamente identica la stessa giornata di alta pressione e di temperature oltre la media. I dettagli maggiori però li trovate sull'app di Trabi Meteo. I dettagli maggiori però li trovate sull'app di Trabi Meteo. Grazie.